Gossipita VIP, se lo sussurra, lo svegliamo. La tensione è salita sulla 7 dopo un acceso scambio di battute tra Lilli Gruber ed Enrico Mentana riguardo al ritardo di trasmissione di 8 e mezzo. Gruber ha ironicamente accolto gli spettatori alle 20 e 46 anziché alle 20 e 30, commentando sarcasticamente che l'incontinenza è una brutta cosa. Mentana, deluso dal tono sprezzante, ha preso le distanze da maleducati e ignavi su Facebook, criticando anche il silenzio della dirigenza. Ha sottolineato il successo del TG La7, segnalando che l'audience rimaneva stabile nonostante il ritardo. Il direttore ha poi ribadito il suo disappunto, scusandosi per il protrarsi della trasmissione ma difendendo la rilevanza dei contenuti proposti. Ha espresso la sua delusione per le parole offensive e per il mancato intervento della rete a suo sostegno. Ha lasciato intendere che valuterà il comportamento futuro, minacciando eventuali conseguenze. Le speculazioni sull'ipotesi di un divorzio tra Mentana e La7 sono emerse, ma i dirigenti di Nove le hanno smentite, considerandole solo chiacchiere. Il contratto di Mentana scade a dicembre e La7 sta preparando il rinnovo, sebbene Mentana abbia il potere decisionale. Ora aspetta ai vertici di La7 cercare di ristabilire l'armonia e la fiducia.